A scuola di legalità, giorno dopo giorno, nelle nostre classi, nelle piccole scelte quotidiane di convivenza civile. La legalità si trasmette vivendola, ispirandosi all'esempio di a che ha saputo dire no alla corruzione. Grandi e umili nomi, Don Giuseppe Diana, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Giancarlo Siani, Rita Tria. Nell'ambito del progetto di istituto Io e gli altri, un percorso verso la legalità, si è svolto un laboratorio di cittadinanza attiva. Cittadini si diventa, che si è articolato per tutto l'arco dell'anno scolastico, attraverso momenti di apertura al territorio, in cui condividere il cammino fatto dai ragazzi. Ancora di più, il 19 marzo, la scuola vuole testimoniare il proprio impegno e il proprio entusiasmo nel voler sostenere la formazione delle generazioni future, insieme alle famiglie, alle istituzioni civili e religiose del nostro Paese. Significativa è stata la presenza del referente educazione alla legalità della Regione Campania, Rosario Dunno, e del giornalista Maurizio Cerino. Nel suo piccolo istituto, Caolino, di Vico e Quenze, guidato dal dirigente scolastico professoressa Alberta Maresca, pone un mattone per la costruzione di un'Italia che ritrova nei propri giovani il senso di quei valori che sembrano dimenticati, ma aspettano solo di essere ritrovati nella coscienza di ognuno di noi. Questo è il coraggio e l'impegno civile che vogliamo infondere nei nostri ragazzi, stimolarli e guidarli intorno con l'obiettivo di chissà che questo mondo può cambiare. Lo stesso Edoardo De Filippo invitava a superare quell'atteggiamento tipicamente partenopeo, di rassegnazione davanti all'ingiustizia o davanti al radicamento di comportamenti scorretti, che sembrano dopo un po' diventare normali, tollerati e quasi giustificati. Bisogna vigilare, denunciare, pretendere ciò che è giusto per tutti noi.